buongiorno ragazze come stiamo allora niente sono le 9 30 di domenica mattina e io sono a casa mia mio marito se ne è scappato con la mattinata no è sceso presto perché è andato al porticciolo dove che lui di solito compra il pesce appena pescato e quindi se ne è andato là allora ragazze vi parlo brevemente del mio pomeriggio di ieri perché vi ho raccontato appunto nel vlog di ieri mattina che nel pomeriggio sarei uscita con mia figlia sarei andata a fare shopping sarei andata al nostro centro commerciale preferito e ho scoperto che mi sono rifatta la suocera allora vi spiego perché perché mia figlia diciamo che si è comportata un po' come tale naturalmente scherzo niente io ieri pomeriggio appunto per uscire uscivo con mia figlia me ne andavo in un bel centro commerciale mi sono vestita con cura mi sono messa il completo turchese per chi non se lo ricordasse quello che ho messo per il mio compleanno che ho comprato da Paco Francisco che è costato una bella cifra è un completo molto bello e l'ho messo una volta sola per il mio compleanno ieri vi raccontavo appunto che ho tante cose ma che ancora ho abiti appesi col cartellino perché non li metto perché mi voglio sempre vestire fresca comoda comodissima ieri appunto per andare a fare questa passeggiata andare in un centro commerciale mi sono messa appunto questo bel completo proprio per utilizzarlo perché l'ho comprato e l'ho messo una volta sola per il mio compleanno e poi ho messo una scarpa molto molto carina che ho comprato circa 3-4 anni fa e che ho messo sempre pochissimo è una scarpa che ho comprato da Bata in passato vi ho fatto il video haul ed è una specie di chiamiamolo così così di sandalo che è molto particolare di fatti quando io le ho comprate appena mia figlia le ha viste è scappata subito a comprarle sono molto particolari perché è una scarpa dove si trovano tutti i colori per dire c'è il tacco rosa fucsia poi c'è una fascia sul davanti celeste una rossa insomma sono scarpe molto particolari appunto che hanno tutti questi colori e che si abbinano quindi facilmente ad ogni outfit avendo tutti questi colori l'unica cosa è che sono comode per carità perché hanno un tacco grosso non hanno il tacco a spillo assolutamente non l'avrei messo però trattandosi di fare spese girando il centro commerciale tu fai avanti indietro avanti indietro mi sono poi ridotta con i piedi che mi facevano male uh non l'avessi detto mia figlia per questo appunto vi dico che mi sono fatta la suocera ma tu ti metti queste scarpe ma come sai che dobbiamo uscire a fare shopping e ti metti queste scarpe ma poi perché ti sei messa questo completo c'è caldo il completo è leggero non è per niente fastidioso con il caldo ma lei tutto il tempo a dirmi e tu perché ti sei vestita così ma perché ti sei messa queste scarpe ma certo non lo dovevi capire che poi i piedi ti avrebbero fatto male oh raga mi sono fatta la suocera veramente comunque a parte diciamo queste piccolezze poi abbiamo comprato mia figlia vabbè mia figlia ha comprato un sacco di cose vi segnalo solamente mia figlia ha comprato vi ripeto tante cose però vi voglio segnalare un completo che si è presa da Zara molto bello è un pantalone in tipo seta molto colorato quindi molto a fantasia ci sono molti colori chiari arancio e tutte le gradazioni e poi è un completo e sopra c'è un bellissimo micro top quindi un top piccolino dove rimane un po' il pancino scoperto ma molto bello con le bretelline di fatti questo non era scontato faceva parte della nuova collezione diciamo non è una novità che quando tu vai a fare shopping poi con gli sconti non trovi mai niente compri sempre con la nuova collezione comunque ho preso questo completo che è molto bello ve lo segnalo è un completo che si può mettere anche per un evento un matrimonio una festa particolare e quindi vi segnalo solo questo mentre io ho preso siamo andate dai cinesi mia figlia si è preso un cappello dai cinesi ormai devo dire ragazze che veramente dai cinesi c'è e noi abbiamo dei negozi così grandi ma con un assortimento pauroso dove trovate ad esempio le scarpe per dire le scarpe che poi trovate nei centri commerciali con i vari marchi non dico i marchi perché non è giusto menzionare nessun brand però sappiate che li trovate uguali io ho preso appunto dai cinesi ho preso una scarpa bassa comoda carina che poi naturalmente vi faccio il video di tutto quello che ho preso quindi ho preso questa scarpa carina poi ho preso un infradito per andare a mare o per casa molto carine tutte sbrilluccicose come piacciono a me e poi dai cinesi ho preso mollettoni per i capelli pinzoni perché mi erano finiti tutti qualche accessorio per capello per capelli grazioso poi ve lo faccio vedere ah poi ho comprato altre cose che mi servivano il colore per i capelli e poi ho comprato le strisce liscia quelle depilatorie per i baffi ah poi mi sono comprata due piantine vinca perché surfini e petunie non ne ho trovato è una bella pianta di basilico poi mi sono comprata le salviettine per struccare quelle della roberts che sono molto buone ce li ho qua roberts sono all'acqua all'acqua alle rose e poi che cosa ho preso e basta quindi ho comprato le piante accessori per capelli non sono due paia di scarpe poi vi faccio il video e vi faccio vedere tutto va bene ok ragazze quindi a questo punto mi alzo perché devo cominciare le pulizie ragazze qui c'è lo chef barra pescatore allora vediamo che cosa ha portato e non lo rimprovero eh non lo rimprovero perché è tanto che non compra pesce perché per ora abbiamo avuto altri da fare no che odore wow allora questi sono paolotti mangia racina si va bene no no non va bene allora paolotto va bene ah questo cos'è cefalo no no questa è la famiglia della minula ah bu quelli che piacciono a me questo è paolotto 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 saraghi una due perfetto e questi sono tutti paolotti no questi sono aspetta non mi ricordo come che odore un varetto mamma mia che odore allora i miei sono quello tipo minula che mai no è minula no tipo minula della famiglia della famiglia comunque questi hanno una polpa eccezionale buoni che odore ragazze non ve l'immaginate l'odore ragazze non ve l'immaginate guardate guardate che occhi guardate guardate che meraviglia va bene così un profumo eccezionale va bene quindi che significa che stasera mi fai mangiare la pasta e poi una bella grigliata di pesce queste cose con la trattativa col pescatore si tratta fino a quando si ha un prezzo buono da parte mia si che riprendo indipendentemente se stasera non significa che adesso ho preso se stiamo dentro no stasera possiamo andare mangiarci una pizza ma chi l'ha detto ma io non ho parlato di pizza fuori non ne ho parlato ci siamo andati venerdì io volevo sapere solamente se stasera mi facevi questa bella grigliata no no ma stasera invece ti porto fuori perché c'è tributo ai tu fuori mi porta fuori sapete che significa nel balcone in che se dove è su tributo ai tu chi è che lo fa su tributo ai tu sul lungomare sul lungomare va bene ragazzi io vado a passare lo straccio in bagno che è meglio ragazze questa è la minimazione del mio lido musica balli in acqua e acqua spettacolare come sempre non se